Prima della cena, e sicuramente c'era un intento di mostrare, si propose di fare questa breve passeggiata sul lungomare. Io ricordo nettamente Pasolini, che cammina quasi in solitaria, ricordo il codazzo, ricordo dietro questo corteo di personaggi sanbenedettesi che ci tenevano ad accompagnarlo lungo questa breve passeggiata. Ricordo che tutti, comunque, orgogliosissimi di questo lungomare, di questi alberghi, no? Un po' stile, come dire, americano, non lo so. Ricordo che a un certo punto, però, lui se ne uscì con questa battuta e disse, gelando, proprio gelando tutti, lui disse, sì, sì, ok, sì, per voi è bello, ma voi perché mi dite che io sono a San Benedetto del Trondo, ma se io non sapessi di essere a San Benedetto del Trondo e mi guardassi intorno, io potrei pensare di stare in una qualsiasi località balneare, cresciuta in fretta, cosa c'è di particolare, cosa c'è di unico, no? Per cui io dovrei pensare di stare a San Benedetto del Trondo. Avete dei palazzoni, avete cemento, tanto, no? Avete, in fin dei conti, un lungomare abbastanza anonimo. Dal Veneto a arrivare fino alle Puglie, troppe ce ne sono di località così, forse potevate curarla un po' di più. Io non ci trovo niente di bello. E tutti, mi ricordo che rimasero un attimo sgomenti, però era vero, però aveva perfettamente ragione. Lo sviluppo economico purtroppo ha quasi sempre il sopravvento sui discorsi di carattere sociale e anche sulla bellezza e sulla qualità del costruito. Perché ovviamente i bisogni economici hanno sempre il sopravvento e nascono così anche le cose brutte, insomma. Un conto è parlare dell'architettura, un conto è fare dell'edilizia. C'è un'edilizia che può essere decorosa, ma c'è anche un'edilizia che non è decorosa. Non è decorosa perché chi la fa non ha le capacità per farla decorosa, ma anche perché chi la finanzia non ha nessun interesse che sia decorosa. va a metro quadro e quindi meno spende e più guadagna, perché il prezzo di vendita finale sostanzialmente non cambia a seconda della bellezza o meno.